Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! XIODERONE! In questo caso il primo si trova esattamente nella pozza d'acqua di sprofondo stantio Quindi esattamente quella che c'è tra... Vediamo se riesco a farvi vedere direttamente il mouse In modo che è molto più facile per voi Esatto! Si trova esattamente qua Tra i magazzini e la parte centrale di sprofondo Questa è la pozza quindi unicorno numero 1 preso In posizione numero 2 invece ragazzi bisognerà andare all'Ande Letali dove c'è il laghetto E di fianco al molo anche se voi non lo vedete non preoccupatevi Proprio qua davanti a voi si presenterà in questa posizione il... L'unicorno gonfiabile numero 2 Vi avvicinate e l'unicorno è preso Siamo all'ultima posizione ragazzi Terzo unicorno Si trova a rifugio ritirato proprio alla base di questa cascatina ragazzi Anche qua non preoccupatevi se in questo video non lo state vedendo Ma proprio davanti a voi ci sarà l'unicorno gonfiabile numero 3 Ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo fra poco in live Ciao Ciao!